Se quella che vedete alle nostre spalle vi sembra la solita Golf, vi sbagliate di grosso. La Golf numero 7 della storia è una rivoluzione. E non solo perché è più lunga, più larga, ma più bassa. Non solo perché è più leggera di 100 kg, ma perché è carica di nuove tecnologie. Pensate che se in città dovesse attraversarvi un pedone, lei se ne accorgerebbe e frenerebbe per voi. Se qualcosa dovesse andare storto alla guida o vi dovesse essere stanchi, la Golf numero 7 se ne accorge e vi sveglia. Tutto questo dai concessionari in questi giorni in Italia a un prezzo non lontano dalla versione precedente.